Usando l'applicazione Quiz Patente Tradotto, che potete gratuitamente scaricare sul vostro cellulare e consultare in 102 lingue, In questo video analizziamo nei quiz per argomento, all'interno della categoria dei segnali di indicazione, i quiz relativi al segnale auto al seguito. Vediamo prima cosa ci dice il nostro manuale su questo segnale. Il segnale raffigurato indica la possibilità di restare in auto durante il suo trasporto in treno. La risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato indica un'area riservata alla sosta delle autocaravan. La risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato si trova nelle vicinanze di una stazione ferroviaria. Risposta corretta, vero. Il segnale raffigurato indica la vicinanza di una grande stazione ferroviaria con possibilità di trasporto di autovetture al seguito del viaggiatore. La risposta corretta è vero. Cosa significa possibilità di trasporto di autovetture al seguito del viaggiatore? Significa che sui vagoni merci vengono caricate le autovetture per lunghe tratte, naturalmente di centinaia di chilometri, e il viaggiatore naturalmente siede all'interno delle carrozze normali con il trasporto passeggeri. Normalmente sono anche queste carrozze dotate di cucette per poter dormire, perché queste tratte ferroviarie percorrono lunghe distanze. Quindi abbiamo detto che la risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica sulle strade extraurbane la presenza di un hotel con parcheggio custodito. Risposta corretta, falso. Il segnale raffigurato si trova in vicinanza dell'accesso per le autovetture da caricare sul treno. Risposta corretta, vero. Il segnale raffigurato indica che la zona è coperta dal segnale per antifurti satellitari. Risposta corretta, falso. Possiamo controllare le nostre risposte nell'elenco finale. Se il video vi è stato utile, mettete un like e condividetelo. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, così sarete informati di ogni nuovo caricamento. Vi diamo appuntamento al prossimo video. Arrivederci, buono studio.